Musica Dalle tezze siamo arrivati in zona Santa Maddalena e siamo entrati in corte Schierino Lena. Siamo dietro l'abitato di Bancole e ci troviamo proprio nel colonnello di Schierino. Sì esatto, il colonnello di Schierino che comprendeva come detto prima la corte tezze, la corte mantovana e altre corti e quindi entriamo tra i territori più antichi del comune di Porto. Infatti abbiamo visto dietro qui alla grande villa sono stati ritrovati insediamenti neolitici 6500 anni fa addirittura. Non solo ma poi si sono stati trovati anche alcuni reperti romani con l'Ar Capitalis che è una statuetta di 19 cm in bronzo pieno che la chiamano un po' la ballerina perché ha questo gonnellino che si muove con questa forma un po' AL che era tipica dei romani montata su una colonna di marmo probabilmente ed indicava i vari crocevia, i vari cruzi a Zema dove la gente poteva prendere qualsiasi strada. Noi visitiamo corte Schierino Lena poi andremo in un'altra corte Schierino, in questo caso corte Schierino Previdi. Dalla Schierino Lena siamo arrivati di fronte alla Schierino Previdi. Ecco Claudio, perché Schierino là e Schierino anche qua? Il problema Schierino risale al fatto da Scharir, Scharar. Praticamente qui vi era tutto bosco nell'antichità e quindi si toglievano pezzamenti di bosco per fare posto all'agricoltura. Questo Scharir, Scharar praticamente prende il nome della località Schierino, quindi prende il nome di una località ben precisa. Ecco, una villa importante, Villa Schierino Previdi perché nei primi anni del 1800 è successo un avvenimento importante che ha determinato la fine di un personaggio a noi noto. Qui nel 1814 finisce l'avventura napoleonica nel Mantovano. Infatti all'interno di questa villa nel 1814 il vicere d'Italia, Gioacchino Boarnè, firma il trattato di resa con l'impero austro-ungarico e quindi tutto il territorio ritornerà in mano agli austriaci. E noi continuiamo con il nostro viaggio di strade con trade e stiamo visitando il comune di Porto Mantovano. Siamo ancora in località Bancole e siamo arrivati in zona Bigattera. Sì, esatto. Il volto che tu vedi qui, questa qui è la Bigattera con il viale che porta la carossa. Di fronte proprio a questo volto c'era il quartiere del Torchio che prende il nome da un'antica osteria del Torchio che sì, che è stata letteralmente demolita, come vedi le case sono tutte nuove, di recente costruzione, si estendeva fino alla statale la Cisa, l'attuale strada Cisa, la 62 e in corrispondenza della trattoria Frizzi qui di Bancole. Ed ora andiamo a vedere la carossa. Dalla Bigattera siamo arrivati alla carossa, siamo in località Le Bancole. Ecco Claudio, perché Le Bancole? Allora, Bancole è una parola che proviene dal Longobardo, banca, che vuol dire piano rialzato in sostanza. Quindi la corte Bancole non esiste sostanzialmente, ma esiste la zona Le Bancole o Le Bancole. Quindi si intende un terreno rialzato. Quindi tutta quest'area è un'area di interesse archeologico perché è la parte ancora più alta del comune di Porto Mantovano rispetto a quella che abbiamo visto prima. Ecco, ci sono stati dei ritrovamenti importanti, ci parlavi appunto di alcuni teschi che risalgono addirittura a più di 5.000 anni fa. Sì, infatti, qui nell'area tra la carossa, tra la di Bagno, la villa di Bagno e la corte di Castelletto Mazzi, una corte quattrocentesca, sono stati ritrovati i primi insediamenti neolitici con dei teschi, come ti dicevo, anche delle punte di freccia e quant'altro. Dai teschi, chiaramente con la radiografia, radiocarbonio, si sono stati riscontrati che risalgono circa 5.700 anni fa. Quindi siamo nell'eolitico, siamo nell'era dei vasi a bocca quadrata. Siamo usciti dalla località delle Bancole e siamo arrivati con la nostra guida Claudio Quarenghi nella Corte Camatta. Esattamente cos'era e cosa c'è di importante qua? Allora, la Corte Camatta è una corte che ha un nome un po' particolare, Camatta quindi da casa falsa, si presume chiaramente a un avamposto militare. La corte del Cinquecento, infatti ci sono scritti che risalgono alla seconda metà del Cinquecento, che il Guglielmo Gonzaga la acquista e la dà in dono alla moglie Leonora, quindi la figlia dell'imperatore d'Austria, che a sua volta questa corte la cederà in osofrutto ai frati gesuiti. Ecco, qui c'è una cosa in punto importante da dire a proposito dei gesuiti. Sì, ce ne sono due di cose importanti. La prima è sicuramente il rosone che adesso andremo a vedere, un rosone in cotto, dove era figurato Federico II Gonzaga, quinto marchese di Mantova. E poi abbiamo un vialone qui alle nostre spalle, un vialone dove i frati gesuiti, visto che qui non vi è nessuna cappella per pregare, questo viale conduceva all'oratorio del Drasso, dove questi frati si recavano a pregare.